Altro contenitore abbastanza strano, tipico solamente di questa zona, è quello che voi vedete al di sotto del tavolo messo lì. Quel contenitore lì viene detto Issara ed è la cassa utilizzata per poter conservare il formaggio. È una cassa realizzata tutta in canne e si apre dalla parte sommitale in questo modo qua ed è realizzata in canne per due motivi. Prima cosa perché i topi non vanno a mangiare la canna, la canna una volta sbriciolata rimane comunque tagliente per cui il topo chiaramente non va per non rovinarsi la bocca. Altra cosa importante, tra una cannellata rimangono le fessure, quindi entra l'aria, quindi continua la stagionatura del prodotto. Questo sistema era talmente efficace che il contenitore per la conservazione del grano era realizzato anche questo in canne. Si chiama Kannitsu proprio per questo motivo, proprio perché è realizzato in canne ed è un silos dove io vado a mettere il prodotto, a conservarlo l'intero anno e poi a prelevarlo man mano che mi serve, tramite un buchino che si trova nella parte bassa e che veniva tenuto chiuso attraverso la presenza di pezze, cioè di stoffe messe lì a bloccare il tutto. Queste sono unità di misura del grano, questo piccolino si chiama Kuopu, corrisponde circa a un chilo di grano, questo Kuomunniu, il mondello corrisponde ai 4 kg, a terra abbiamo Urumunnia, cioè due mondelli 8 kg. Sono in realtà delle misure un po' diverse da quelle che sono i nostri chilogrammi, grossomodo si avvicinano a questa entità, ma erano delle misure totalmente diverse, autonome. Verso la parte esterna della grotta vi è la tannura, tannura è una parola araba, vuol dire focolaio ed è sostanzialmente il posto dove poter allestire il fuoco, quindi la legna che noi abbiamo visto in precedenza messa nella grotta veniva in parte tenuta nella parte bassa della tannura, in modo da essere messa lì pronta per l'utilizzo e aggiunta il fuoco man mano che se ne verificava la necessità. E poi a corredo qui ci sono tutta una serie di pentolame, di attrezzi appunto per poter preparare i cibi. E' da notare come i mestoli e i cucchiai sono tutti realizzati in legno, queste cose una volta non si andavano a comprare, ma venivano realizzate dentro casa. Allora ecco che gli attrezzi che noi abbiamo visto poco fa, gli attrezzi che vi dicevo servivano alla manutenzione del mulino, sono tutti attrezzi utilizzati anche per la realizzazione di questi particolari manufatti utili all'interno della famiglia. In caso contrario venivano, si usava a conficcarla nel cannizzo in questo modo se erano appunto di fattura diversa. Possiamo notare che questi oggetti sono stati anche utilizzati, perché questi manufatti vedo che sono abbastanza vecchi, vuol dire che le persone hanno usato e mangiato con questi oggetti. Quindi parliamo di anni circa, sono degli oggetti che avranno 40, 60, 70 anni. Certo, certo, anche di più, anche di più alcuni. Siamo entrati in un altro ambiente dove si sente uno scorrimento di acqua da tutti i lati e adesso ci spiegherai dove ci troviamo. Sì, noi in questo momento siamo dentro la lavanderia, o meglio, adesso questo risulta un ambiente interno. Voi dovete immaginarlo come un corridoio esterno, in quanto dovrebbe mancare la copertura che oggi qui si vede. Ed è questo un canale di derivazione da quella che era l'acqua che bisognava mandare al mulino, quindi da quello che era il canale principale, la saia principale. Era un canale questo invece costruito per prelevare l'acqua dalla struttura principale e andarla a mandare nel terreno laterale al mulino per poter effettuare la coltivazione, l'irrigazione. Ovviamente a questo punto, visto che qui era la presenza di quest'acqua, è stata utilizzata per poter anche lavare vestiti, quindi a questo punto non bisognava spostarsi come un po' tutti gli altri, lungo il fiume che andare a lavatori comuni, ma lungo il percorso era stata posta una grossa pietra che fungeva da lavatoio e lì appunto avveniva la pulitura dei vestiti. Posta direttamente sulla pietra vi è il sapone di casa, questo qui è un sapone realizzato con olio di oliva e soda, in questo caso olio di oliva buono, in genere il colore del sapone era ben più scuro perché si utilizzava non l'olio buono, ma l'olio di scarto, quello che io normalmente avrei dovuto eliminare, buttare, proprio perché l'olio aveva un valore economico elevato e quindi si cercava di utilizzarlo strettamente per la famiglia, del resto per il risultato con l'uno o con l'altro tipo di prodotto non cambiava, nel senso che questo era comunque un prodotto buono per poter lavare vestiti, ma anche appunto per poter lavare il corpo. Praticamente non si buttava via nulla? Assolutamente. Non come adesso che c'è un consumismo da far paura. Perfetto, mentre lì in fondo abbiamo il calderone dove veniva fatta la liscia, la liscia consiste nell'andare a prelevare un po' di cenere, metterla all'interno di una stoffa, poi sfruttare le proprietà della cenere che appunto contiene soda per riuscire a sbiancare i vestiti e quindi renderli bianchi, così come adesso si contribuisce a fare con alcuni detersivi moderni che aggiungono la cenere proprio per aumentare questo potere sbiancante del detersivo stesso. Mi piace porre in evidenza il fatto che i vestiti che qui sono stesi sono solamente dei vestiti maschili. Questo è perché, proprio come vi dicevo poco fa, questo dovrebbe essere un ambiente esterno e una volta all'esterno non bisognava mettere panni femminili e quelli bisognava asciugarli all'interno delle case. Questa è una chiara influenza araba. Per il pudore verso la donna. Esatto, esatto. Per i pochi, complimenti eh. Grazie. Ma è stato lei a realizzarla? No, no, no. Allora, mio papà ha voluto recuperare la struttura in quanto questa qui in realtà sarebbe l'attività di mio nonno, qui c'è stato anche mio bisnonno come migliaia, per cui chiaramente era la storia della famiglia. Sì, in realtà loro hanno... Sì, non è stato mai proprietario. Mio nonno l'ha potuto comprare negli ultimi anni quando poi stavano per andare in disuso e quindi il valore economico ovviamente era diverso. Allora, questa qui invece è la stalla. È un ambiente posto al lato alla lavanderia che noi abbiamo appena visto, che era appunto, ripeto, il posto dove venivano lavati i vestiti, ma in realtà svolgeva anche da stradetta per poter raggiungere quest'altra grotta, grotta già esistente in precedenza alla costruzione del Molino Sempre, in realtà questa è una grotta diversa nel suo utilizzo rispetto a quello che era la sua origine. Voi qui vedete la presenza di due ambienti, un ambiente, il secondo, rialzato rispetto al primo, e decisamente più piccolino. Bene, in realtà quello che voi state vedendo in questo momento sono i resti di una chiesetta del periodo normanno, di cui l'ambiente piccolino era il presbiterio, mentre quello più grande è l'aula, o perlomeno quello che voi state vedendo è una parte dell'aula, perché la grotta dovrebbe essere di dimensioni maggiori, ma poi è stata tirata giù nella parte anteriore, ma che ai tempi di costruzione del Molino è stata utilizzata semplicemente come stalla, con la costruzione di una mangiatoia.